La rottura è stata riparata e le utenze riattivate tra la serata di ieri e questa mattina. È tornato dunque tutto alla normalità a Barletta dopo l'allarme lanciato ieri mattina da diversi genitori del presso, Raffaele Di Bari dell'Istituto Girondi, che nel portare i propri figli a scuola avevano sentito un fortissimo odore di gas metano in tutta la zona, nel quartiere Patalini. Avertite le forze di polizia e i controlli del caso avevano accertato effettivamente la rottura di una conduttura del gas da parte di una ruspa di una ditta che sta lavorando per la realizzazione della fibra ottica. Insomma, l'ennesimo rischio che questa volta avrebbe potuto riguardare piccoli studenti è stato sventato fortunatamente dall'intuito di genitori e insegnanti. Il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'Italgas e del comune, coadiuvati dagli agenti della polizia locale e dall'arma dei carabinieri, poi impegnati a garantire la pubblica incolumità e a sgomberare precauzionalmente gli alunni del plesso. Il sindaco Cascella, che ha compiuto un sopralluogo nell'area nell'auspicare l'accertamento delle responsabilità dell'accaduto, ha manifestato gratitudine sia ai vigili del fuoco, ai tecnici dell'Italgas e del comune, alle forze dell'ordine che hanno affrontato l'emergenza e anche agli insegnanti, esercenti, cittadini tutti che, nonostante gli obiettivi disagi, hanno scrupolosamente favorito la ripresa dell'attività del quartiere. E' il segno, ha affermato il sindaco, della cresciuta sensibilità e consapevolezza della nostra comunità dopo la tragedia di Via Milano, in cui perse la vita un operaio dell'Italgas e i rischi legati a interventi per dotare di infrastrutture adeguate, aree della città segnate da uno sviluppo disorganico. Commento doveroso quello del sindaco, ma non per questo utile accalmirare gli animi dei barlettani, ormai preoccupati dei continui casi del genere che continuano a verificarsi in città. Si può parlare di errore umano quando si è di fronte a un singolo caso, ma la locuzione latina, errare umano, perseverare e diabolico, serve a far comprendere che adesso le scuse non servono più. Quel che serve è sicuramente un'attenzione scrupolosa di chi è chiamato ad effettuare lavori così delicati e un organo di controllo che vigili attentamente affinché tragedie come quelle di Via Milano non abbiano più a ripetersi.